Abbiamo dato luogo a questo progetto proprio per venire incontro al mondo imprenditoriale, facendo presente quella che è la nostra attività sul territorio, che non è solamente legata alla crescita e alla promozione imprenditoriale, allo sviluppo delle imprese, ma è soprattutto anche legata intimamente a tutte quelle che sono le difficoltà burocratiche di chi oggi dà valore aggiunto al nostro territorio in termini di sviluppo economico e sociale. Le imprese hanno delle grosse problematiche di carattere burocratico nell'interazione con la pubblica amministrazione ed è su questo che bisogna incidere, ancora prima di intervenire per quanto concerne i processi innovativi e di agevolazione fiscale, che sicuramente restano importanti, ma naturalmente dobbiamo dare la possibilità alle imprese che si muovono sul territorio della città metropolitana di Torino di essere trattate al meglio e nella stessa misura ovunque loro vadano. Per far questo noi oggi iniziamo questo lavoro che parte da tre categorie che abbiamo già identificato, che sono quelle degli autotraslocatori, che sono le officine addette al collaudo e alla revisione degli autoveicoli e soprattutto ai produttori agricoli che accedono ai vari mercati, per fare in modo che si sburocratizzi tutto e che naturalmente a livello metropolitano abbiano lo stesso trattamento burocratico laddove loro vadano a trovarsi.